Che c'è? C'è sto anche io. Ma che stai sempre chiuso intanto il gabinetto tu, né? Uè, vai che vanno sottra su. Tu fai sottra la vita tua chiuso intanto il gabinetto. Tu fai mai trasiccato. E' Pascalino, devo andare al tribunale. Speriamo che vanno a lei. Eh, queste cose non si dicono neanche per scherzare, capito? Mamma, chi lo sta chiuso sempre in tuo gabinetto? Lo sta chiuso in galera, non è la stessa cosa. Eh, va, va, va. Tu fai sempre chiuso. Vai. Sì. 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 No, ma zitto, Rosa, zitto. Ah, ma tu chiama proprio? Ci parla. Rosa, tu stai zitto. Ma se sei a mo'enne proprio, hai fatto con me un movimento che ha... Che è la questione di concentrazione? Mi distrae? E fin di me fa... Ti ho già fatto solo una domanda. Tu pensava che si chiamava solo con pensiera. Invece io chiamo pure che parola? È capace che si sente di chiamare, se non vincere chiuno. Rosa, tu ci pieti se gli riesci a muovere quelle cose, ha già risolto tutti i problemi miei. Eh, quello per esempio ha già venuto la visione, no? Mi dice, mi muova quello. Fum, io muo. Oppure, mi muova quel fatto. Fum, e io muo. Ha già risolto tutte cose, non lo so? Per esempio io mi metto il cannazio, no? E faccio asciugare i due gabinetti che non esce mai. Eh. Comunque, se l'avessi asciugato, ritemi presenti. È molto tempo che sei con Frankie. Ha detto, è molto che stai con Frankie. No, io capivo, è morto quello che stavo con Frankie. Il Parlamento è...